Gentili telespettatori buona giornata. Colpo di scena al 21 di dicembre. Caos totale nei 5 stelle. Almeno 30 persone pronte a cambiare partito. Voi sapete fine secondo mandato, sondaggi che danno il partito alla metà, taglio dei parlamentari. È necessario trovare un altro lavoro, mandare il curriculum, fare i colloqui. E in 30 sono pronti con le valigie. Già 3 se ne sono andati dal movimento la settimana scorsa, qualche giorno fa. Altri 20 sarebbero in Parlamento pronti ad andare via. Più di 10 senatori anche pronti alla stessa cosa. E così Luigi Di Maio convoca ad urgenza i facilitatori freschi di nomina per vedere cosa fare. E allora parlano di vincolo di mandato senza capire che questi stanno andando via per cercare un altro lavoro. Perché nel movimento non c'è posto nella prossima legislatura sia per lo statuto sia per i sondaggi. Intanto il senatore Gianmarco Centinaio della Lega interviene alla trasmissione Rai Radio 1 in un giorno da Pecora e dice che altri parlamentari 5 Stelle sarebbero in procinto di abbandonare Luigi Di Maio e Beppe Grillo per passare alla Lega. Ovviamente questo numero consistente che parlavamo prima sicuramente potrebbe, anzi, farebbe cadere il governo Conte così da congelare il taglio dei parlamentari e andare tutti al voto con lo stesso numero di persone rieleggibili in Senato e in Parlamento. Quindi sarebbe un salvacondotto per tutto il Parlamento. Ma Centinaio dice così. Ci sono altri grillini che vogliono unirsi a noi. Dichiara Centinaio. Ma dichiara che non saranno presi tutti coloro che vogliono abbandonare la nave pentastellate. Ma sarà effettuata una sorta di selezione. A qualcuno abbiamo detto di no. Ce ne sono alcuni che è meglio che rimangano nei 5 Stelle perché non rientrano nei nostri standard. Questi secondo Centinaio sono troppo. 5 Stelle volevano mantenere le loro idee da 5 Stelle medi e poi venire con noi. Ma attenzione. Vuol dire che a questo punto non possono spostarsi nella Lega 30 grillini senatori perché in una prossima legislatura sarebbero delle mine vaganti perché la metà o una gran parte dei senatori leghisti sarebbero in effetti dei grillini convertiti per motivi di stipendio e di opportunismo personale. Quindi Matteo Salvini dice va bene le porte sono aperte ma fino a un certo punto con un certo limite perché non possiamo accogliere tutto il Movimento 5 Stelle perché noi siamo leghisti e va bene che voi scappate però voi scappate non lo dice ma voi scappate per i soldi per un posto di lavoro non perché siete veramente dei leghisti o stimate Matteo Salvini o avete le stesse idee della Lega. È solo una questione di opportunismo quindi un attimo vediamo di fare delle selezioni come in discoteca. Poi parla dei senatori che sono arrivati nella Lega lucidi, urraro e grasso e dice ci siamo trovati d'accordo sul fatto che sia meglio che i 5 Stelle smetta di governare questo paese. Da tempo erano sulle stesse linee nostre è stato un passaggio normale da questo punto di vista. Sappiamo che Grillo e Di Maio hanno provato inutilmente a fargli cambiare idea. Gli hanno telefonato questi non gli hanno neanche risposto al telefono. Arrivederci. Centinaio non fa il nome di quelli che stanno scappando i pronti al salto e però dice c'è l'ipotesi l'ingresso anche di Gianluigi Paragone, uno dei fieri oppositori dell'alleanza 5 Stelle PD del MES, il meccanismo europeo del fondo di stabilità e dell'Unione Europea. Dice no almeno io non ho rapporti con Paragone, dice che siamo innamorati di Draghi e allora stia lì. Però Paragone sembrerebbe proprio un uomo di centrodestra e potrebbe passare alla Lega anche se Paragone lo nega. Centinaio dice ma non so potrebbe rimanere lì ma ci sono delle trattative in corso. Centinaio poi parla anche dei Giuseppe Conti, dice è quello che mi ha deluso più del precedente governo. Su di lui avevo aspettative a livello umano. Il perché Centinaio lo spiega dice gli avevo mandato un messaggio per capire insieme cosa fare quando il governo non era ancora caduto. Lui mi ha risposto domani ci sentiamo e non l'ho più sentito. Centinaio dice se dovessimo tornare al governo con i 5 Stelle mi tingo i capelli. Di giallo, mai dire mai, mai dire banzai no? I conduttori di un giorno da pecora ricordano le parole date. Ne sa qualcosa la senatrice PD Monica Crinnà che il 5 febbraio 2018 nel corso della trasmissione sempre un giorno da pecora aveva affermato un governo con i 5 Stelle io piuttosto mi faccio il bagno nel Malox. Ci nuoto dentro. Promessa mantenuta. Quando il 10 dicembre scorso l'ADEM è tornata negli studi i conduttori le hanno fatto trovare una piccola piscina gonfiabile ricorma di scatole di Malox. Centinaio avvisato, mezzo salvato. Quindi i grillini pronti a cacciare Gianluigi Paragone definito un virus della Lega che porta delle metastasi dentro il Movimento 5 Stelle. E lui risponde con il dito medio. Sì, proprio con il dito medio. Già questa è la settimana dei diti medi. La ragazza seduta a fianco di Salvini che fa il dito medio e Gianluigi Paragone fa il dito medio ai 5 Stelle perché dice adesso ci divertiamo. Mi vogliono cacciare? Adesso ci divertiamo. Però lui continua a dire io sto nel Movimento e non mi sposto. Mi sembra un po' curiosa questa posizione. Io sto nel Movimento e non mi sposto assolutamente. Però gli fa il dito medio ai suoi colleghi. Dice adesso ci divertiamo. Vediamo se riuscite a cacciarmi. Non lo so che gioco sta giocando Gianluigi Paragone perché secondo me è pronto a passare nella Lega. Ma forse sta aspettando ancora qualche giorno. Ma lui Paragone che cosa ha fatto questo cattivone verso il Movimento 5 Stelle? Non ha votato la manovra economica e non ha votato il MES. Secondo me Gianluigi Paragone è già d'accordo con la Lega però la Lega sta aspettando insieme a lui che sia un gruppo più consistente a passare. Ci deve essere un qualcosa del genere perché sta votando praticamente contro il governo. I probiviri, questa specie di giudici della Santa Inquisizione del Movimento 5 Stelle avrebbero avviato l'istruttoria disciplinare contro Gianluigi Paragone colpevole di aver votato né la risoluzione della maggioranza sul MES né la fiducia alla legge di bilancio per il prossimo anno. E Gianluigi Paragone dice beh beh mi stanno inquisendo no? Allora dice sì mi è arrivata la segnalazione adesso manderò le mie osservazioni risponderò a tutto. Chi pensa che me ne vada si sbaglia di grosso non ho un carattere facile ora ci divertiamo. Ecco nulla che faccia per esagire qualcosa di buono in casa 5 Stelle. Ma contro di lui si scaglia la compagna di partito Anna Macina già perché l'appartamentare dei 5 Stelle ospite ad Agora su Rai 3 dice Paragone continua a dire e sostenere che non è più d'accordo, che non si ritrova più, non vota i provvedimenti, non vota la fiducia. Coerenza imporrebbe che prendesse una decisione. Se io non sto più bene in un posto vado via, è proprio una questione di coerenza interna. Rassegni le dimissioni, torni dai cittadini e si faccia rieleggere con una forza politica in cui crede. Beh queste belle prediche date dai 5 Stelle che hanno tradito il loro elettorato, hanno tradito la loro base, parlare di traditori, cioè traditori che parlano ad altri traditori di essere dei traditori è un po' emblematico di quello che è diventato il Movimento 5 Stelle. I tre senatori andati via proprio settimana scorsa parlano di un movimento diventato peggio della casta che voleva combattere, peggio della casta. E se lo dicono loro che vivevano tutti i giorni nel Movimento 5 Stelle al Senato in Parlamento, beh ci possiamo assolutamente credere direi. E Paragone dice non vado da nessuna parte se lo ficchino bene in testa, resto nel movimento. E appunto nella trasmissione Un giorno da pecora alza il dito medio alla domanda come reagirebbe nel caso di espulsione del Movimento 5 Stelle alza il dito medio. Certo che Paragone è un curioso personaggio, è anche simpatico nel suo genere, un po' così. E quindi secondo me non lo so, vedremo dove andrà, che farà, però sicuramente è un simpaticone. Vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui potete partecipare. Siamo anche nella pagina di Facebook Tele Italia Notizie dove trovate tutti i nostri video di YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi volete in internet e fuori da internet. Grazie per avermi ascoltato e buona giornata. Arrivederci.